Ragazzi, buongiorno. Ci troviamo nella galleria che misce Poligrotta con mezzo all'Ira. Ma ormai sono mesi che Maurizio si trova in queste situazioni. Maurizio ha bisogno di aiuto per essere accolto in un centro appropriato per dargli pure le appropriate. Non c'è bisogno di togliergli le coperte e farlo sentire anche fritto. C'è bisogno che qualcuno intervenga per portarlo in un centro adeguato. Lui non riconosce dove si trova. Saranno più di 5-6 mesi che non si lava. Ha varie problematiche che abbiamo portato vestiti, mangiare periodicamente. Ha bisogno di un aiuto. C'è bisogno che le istituzioni facciano qualcosa? Sono mesi ormai. Non riesce a capire bene come vive, qual è la sua situazione. Ha bisogno di essere aiutato da qualche centro ad altro che possa dargli cure mediche. Se è possibile fate girare che arrivi questa voce a qualche organo competente. perché noi oltre a portare di coperte, andiamo a mangiare, a portare di rossini, di scarpe, quello che cerco, ma tra l'altro non si cambia mai. Ha sempre gli stessi indumenti. Ha sempre gli stessi indumenti, la stessa tuta da 5-6 mesi. Non fa gli scorsi sensati. Quindi ha bisogno di un sostegno, per favore. Per favore, che qualcuno faccia qualcosa. Qualcuno che ha la possibilità di aiutare Maurizio. Ha bisogno di essere aiutato. Ragazzi, c'è bisogno di fare qualcosa. Perché i volontari non è che possono...